Salta la sfida tra bomber, Lescano c'è, Patierno no, out il 32enne attaccante pugliese vice capocannoniere del girone con 17 gol. In brazzo della scelta per Zeman che recupera gli infortunati, Palmiero, Cancellotti e Giabba. Ergo assai probabile, la conferma dell'undici sceso in campo nelle ultime due partite. Pizzari tre pali in difesa a Crescenzi, Brosco, Mesic e Milani a centrocampo, Raffià, Palmiero e Craia davanti il tridente Merola, Lescano, Colai. Del resto, almeno in teoria, dopo l'ottima prova di Catanzaro, non ci sarebbe motivo di cambiare, anche se Zeman sottolinea. C'è una squadra dove siamo in tanti bravi, il problema è mio di saper scegliere giusto, è un momento giusto. Per me io a sinistra alto se faccio giocare Colai o delle Monache o dei Zogus, sono tutti tre bravi. Poi il discorso è se riescono a esprimersi tutti uguali o al meglio. Pericolo per così dire giallo, ben otto e diffidati. Aloy, Palmiero, Crescenzi, Milani, Brosco, Boben, Cuppone e Giabba. Virtus, Francavilla settima in classifica, in piena zona playoff, ma disastrosa in trasferta. Tre pareggi ed un successo recente, lo scorso 25 febbraio ad Avellino. In totale appena 6 punti su 51 a disposizione in 17 gare, disputate lontano dal pubblico amico. Fuori casa, soltanto 10 reti realizzate, ben 29 subite. Totalmente opposto il trend casalingo, 39 punti, 33 gol all'attivo e 14 al passivo. Come detto non ci sarà Patierno, noie muscolari, altri sì ai margini, il portiere Avella, il centrocampista Camerunense Ceccia e la mezzala Cardoselli, doppietta l'andata, rottura del crociato, stagione finita. Tra i convocati torna invece l'esperto difensore Idda, ex Cosenza. Sistema di gioco a 3-5-2, probabile 11, Romagnoli tre pali, in difesa Solcia, Minelli, ex Primavera Delfino e Capitan Caporale. Sulle fasce Pierno e l'ex De Marino. A centrocampo Risolo, vertice basso, Macca e Di Marco interni. Attacco per scelta senza prima punta di ruolo. Giocheranno infatti Murilo e Maiorino a lungo trattato quest'ultimo la scorsa estate, proprio dal Pescara. Se così fosse, solo panchina per l'ex Andrea Cisco. Non è facile la partita, se giocano a 5 chiusi, trovare spazio non sarà facile. E ci dobbiamo preoccupare di loro di partenze e contropiede che hanno abbastanza buono. L'allenatore della Virtus Franca Villa è Antonio Calabro. 47 anni da compiere, passato da difensore in B nel Castel di Sangro. 16 presenze nella stagione 1997-98. Ha incrociato Zeman in una sola circostanza. In B, nelle immagini, 30 settembre 2017, allenava il Carpi. Sconfietto 1-0 al Cabassi, match winner Cristian Capone. Vendetta, per così dire, consumata nella gara di ritorno 13 marzo 2018. 2018, vittoria di misura. 1-0, gran gol di testa firmato da Alessio Sabbione. Sulla panchina biancazzurra, Massimo Epifani. Da poco subentrato a Zeman.